Buongiorno contadini, ma cosa sono questi cosetti che crescono sulla corteccia dei nostri olivi? Ve li vado a presentare, sono i licheni. I licheni sono degli organismi viventi estremamente interessanti. Hanno un'importante funzione di indicatore ambientale perché quando li troviamo significa che l'aria è piuttosto pulita, è abbastanza pura. Sull'olivo però, quando vediamo che la corteccia è completamente ricoperta da licheni, è segno che c'è qualcosa che non va proprio bene. Infatti ricoprono spesso il legno secco le parti che ormai l'olivo sta abbandonando. Ci stanno a dire che in quei punti probabilmente c'è da intervenire, che troviamo del secco come in questa pianta lasciata andare da qualche anno. Inoltre ci stanno a indicare che probabilmente queste piante non hanno visto il rame da un bel po' di tempo. Il rame è importante sia per la mosca che per l'occhio di pavone, per varie situazioni sanitarie dell'olivo. Quando abbiamo tanti licheni probabilmente non abbiamo avuto il rame da un po' perché quando diamo il rame anche loro un pochettino spariscono. Quindi grazie ai licheni che ci indicano che abbiamo una buona aria ma che dobbiamo intervenire sulla pianta. A presto!